Quest'anno sono due le iniziative che presentiamo, sono due iniziative che si propongono un po' gli stessi obiettivi e finalità, dare una visione diversa e portare a riflettere le persone sulla rappresentazione delle donne e del sessismo in genere. La prima iniziativa ci sarà il 7 di marzo alla Bibliocop, presso il supermercato Coppe di Via Veneto, si intitola la ricerca in rosa e in collaborazione con l'Università di Arezzo verranno delle ricercatrici per fare una breve chiacchierata con tutti noi. Con gli occhi di lei invece è stato un concorso presentato nelle scuole superiori di Arezzo, a cui non ho partecipato circa una decina di classi di 5 istituti e l'8 marzo sarà il momento della premiazione. Con gli occhi di lei era un percorso fatto con i ragazzi per riflettere su come la tematica della violenza sulle donne viene trattata dai media, pubblicità, giornali e quant'altro e si è chiesto a loro di provare a fare una rappresentazione di tipo artistico o grafico o anche video rispetto a questa tematica, per provare a vedere la cosa con gli occhi di lei per una volta.